Senatore Paolo Franco, oggi è stata una giornata per la Lega Nord di incontri con gli altri esponenti di partito sul federalismo. Quali novità ci sono? Intanto che il percorso di lavoro su un testo che viene migliorato per renderlo più utile ai comuni, per avere l'autonomia finanziaria, è andato avanti. A questo percorso hanno partecipato tutte le forze politiche, sono stati degli incontri informali, ma molto utili, preparatori, perché la settimana prossima in Commissione discuteremo queste modifiche e la settimana successiva lo proveremo. Direi quindi che sono ottimista e mi è sembrato che ci saranno dei distinguo o delle precisazioni da parte anche del Partito Democratico, però non c'è stata una preclusione, magari non a votare a favore del testo, ma verso una presumibile astensione, con un contributo, ripeto, propositivo da parte di tutti.